Buonasera a tutti. Grazie di essere presenti. Sesto incontro del ciclo I capolavori raccontati. Stasera tra noi Stefano Zuffi, storico dell'arte, che parla di bellezza e politica, la nascita di Venere di Botticelli. Grazie ancora. Grazie presidente, grazie cari amici. Buonasera a tutti e giuro che il titolo l'avevamo scelto indipendentemente dalla settimana in cui ci troviamo. Quindi la questione della politica è stata molto precedente alle consultazioni elettorali. Io non so quanto tempo durerà l'euro, spero a lungo. Per il momento mi godo il fatto di avere in tasca con la monetina da 10 centesimi la nascita di Venere di Botticelli. Ce l'abbiamo noi. Fateci caso, nella nostra monetazione, nei coni dei centesimi e poi delle monete di 1 e 2 euro che sono coniate in Italia, abbiamo una piccola pinacoteca o anche una piccola rassegna di suggerimenti per delle visite, delle gite, dei luoghi dove andare attraverso varie regioni e varie situazioni italiane. La nascita di Venere è probabilmente, dopo la Gioconda, l'immagine più riconoscibile, riconosciuta e immediatamente percepita, della pittura italiana. Io mi ricordo più volte nella mia carriera editoriale che quando bisognava fare una copertina di un libro, di un catalogo, di un manuale con un'immagine che fosse riconoscibile, il dualismo era sempre o la Gioconda o la Venere di Botticelli. Attenzione, si dice la Venere di Botticelli, non la nascita di Venere di Botticelli. È un dipinto, andiamolo a vedere subito nel suo insieme. Dico subito che si possono spegnere queste luci, io non devo leggere, non ho bisogno di queste luci ed è molto più interessante guardare le opere che guardare il sottoscritto. Il dipinto è un'opera di considerevole dimensioni, è un dipinto di dimensioni anzi piuttosto notevoli, è largo poco meno di tre metri ed è alto un metro e settantacinque. Le figure dunque sono in un formato un po' meno del naturale. Ha una caratteristica molto insolita, non unica, ma molto insolita per il 400 italiano, e cioè è dipinto su tela, non su tavola, ma sono due pezze, due teli accuratamente e attentamente cuciti fra loro, non si vede assolutamente la sutura tra questi due teli e si tratta dunque di una delle prime opere della pittura italiana non dipinta su muro a fresco o su tavola, bensì su tela. Tela che è accuratamente preparata da una imprimitura, in lingua toscana si dice mestica, fatta con un polvere di alabastro accuratamente sminuzzata, sbriciolata, fino a diventare quasi impalpabile, che si stende sulla tela e che dà questo sottofondo bianco con una vaga sfumatura di azzurrino che determina il tono generale di questo dipinto. Il nostro dipinto fa parte di un gruppo di opere eseguite da Sandro Botticelli, diciamo per la famiglia dei Medici, non per Lorenzo il Magnifico, ma per la famiglia Medici, famiglia un po' allargata, e che hanno come soggetto dei temi mitologici. La cosiddetta primavera agli uffizi, la nascita di Venere, dovrei aggiungere cosiddetta anche per questa, sempre agli uffizi, Palla del Centauro, altro dipinto degli uffizi, Marte e Venere alla National Gallery di Londra. Questi quattro dipinti formano un complesso che è un pochino improprio definire ciclo, nel senso che forse non sono stati concepiti in modo unitario, ma certamente seguono una logica e seguono un progetto anche di presentazione degli dei antichi in una chiave nuova, in una visione, in un'ottica, in una prospettiva diversa, che è quella dell'età di Lorenzo il Magnifico, del grande sincretismo tra la mitologia classica e la religione cristiana, che viene promossa nell'ambito della raffinata corte di Lorenzo il Magnifico, in modo particolare da Marsilio Ficino. Questo Marsilio Ficino, letterato, filosofo, umanista nel senso più ampio e anche più nobile, vorrei dire, del termine, è molto probabilmente il personaggio, l'intellettuale, che sta alle spalle di questo ciclo di pitture. Molto probabilmente questi quadri così famosi erano circa mille anni, mille anni, che gli dei antichi non venivano presentati in modo così monumentale, in modo così ampio, in modo così solenne e in modo così profondamente umano, come metafore tangibili del nostro essere e delle prospettive dell'arte, della gestione dello Stato, della comunità nel suo insieme. Dicevo, è molto probabile che l'ideatore di questo ciclo non sia il pittore, non sia Sandro Botticelli. Botticelli è un artista capace, un artista dalla notevole carriera, che arriva proprio al culmine della sua carriera in coincidenza con questi dipinti, che costituiscono proprio il momento apicale della sua vita, della sua produzione, della sua fortuna anche nella Firenze laurenziana. Ma Botticelli non era affatto un intellettuale. Botticelli era figlio di un conciatore di pelli, il quale aveva la propria casa in Borgo Ogni Santi, nella parte di qua, diciamo, dell'Arno, e la puzzolente bottega della conceria dalla parte opposta del fiume. Botticelli, Sandro Botticelli, è un uomo semplice, è un uomo spiritoso, è un artista che ama la sua città e che, a differenza di molti altri suoi colleghi, detesta viaggiare, se ne sta molto tranquillo a gestire casa e bottega nella vecchia casa di Borgo Ogni Santi, nella casa di famiglia, e le cronache dell'epoca ci ricordano di scherzi, di feste, di motti anche abbastanza scurrili che Botticelli scambiava con i suoi garzoni. Insomma, Botticelli, colui che ci dà l'immagine più rarefatta, più alta, più sofisticata, più raffinata della Firenze laurenziana, era lui di per sé un uomo del popolo, un uomo semplice, era un uomo di gusti anche, appunto, popolari, non paragonabili a quelli dei suoi raffinati committenti. Ma la cosa interessante è che Botticelli, appunto, è talmente inserito in questo contesto, in questa situazione, da averci lasciato immagini come questa. La Primavera è il capostipite di questi dipinti mitologici, è l'opera da cui prende avvio un po' tutto questo programma, questo processo di ripresa degli dèi antichi, che molto curiosamente, e vorrei dire anche un po' misteriosamente, non hanno lasciato traccia nei documenti dell'epoca. Allora, io sono del tutto convinto, da storico dell'arte, che avesse ragione Federico Zeri quando diceva il primo documento che noi dobbiamo leggere è l'opera d'arte. È vero questo. però, se salta fuori qualche carta d'archivio, ci fa un gran comodo, diciamo la verità. E, tra l'altro, sono a poche decine di metri dall'archivio di Stato di Genova, che, come certamente voi sapete, conserva le più antiche carte notarili del mondo. Quindi, gli archivi delle città italiane sono un patrimonio colossale. Qualcuno si è divertito in modo, forse così, un po' superficiale a dare delle statistiche. Si dice, ma l'Italia possiede il 40, 50, 60% del patrimonio artistico del mondo. Chi lo sa? Si tratta anche di capire che cosa definiamo come opera d'arte. Quello che è certo è che l'Italia possiede il 200% delle carte d'archivio di tutto il resto del mondo messo insieme. Cioè, noi, nelle nostre città, abbiamo il doppio di documenti notarili, di carte, di magagne, di sentenze, di petizioni, di attacca, siamo degli attaccabrighe spaventosi. Cioè, abbiamo tutti in galera, abbiamo tenuto queste carte d'archivio millenarie, quelle di Genova sono dell'undicesimo secolo, cioè hanno mille anni, e ne abbiamo una quantità straordinaria. Ebbene, purtroppo, per i dipinti mitologici di Botticelli non c'è niente. Non vengono mai citati. Compaiono, e guardate che questo è veramente un po' un mistero, magari, chi lo sa, può darsi che prima o poi ci sia qualche fortunato ricercatore disoccupato che non sapendo come passare il tempo va a frugare in qualche archivio di Stato di Firenze e traccheta, trova un faldone di documenti su queste opere. Ma per il momento questo colpo di fortuna non si è avverato. Per cui, stranamente, la prima volta in cui compaiono citati i dipinti come La nascita di Venere o La primavera, cioè dipinti che noi tutti consideriamo dei fondamenti insomma del rinascimento italiano, anzi, quando pensiamo alla parola rinascimento ci viene in mente proprio questi quadri qui, vengono citati da Vasari, il solito Giorgio Vasari, croce e delizia degli storici dell'arte, perché Vasari ci ha offerto un patrimonio incomparabile di informazioni, ma anche qualche panzana, per cui bisogna stare un po' attenti a pescare le informazioni giuste. Bene, Vasari dice testualmente, pochissime righe, dice, parlando di Sandro Botticelli dipintore, per la città, Firenze, in diverse case fece tondi di sua mano e femmine i nude assai, decidete voi se unire assai a i nude, cioè molto nude, oppure fece assai femmine i nude, molte donne i nude, delle quali ancora oggi, Vasari scrive nel 1550, circa 70 anni dopo l'esecuzione di queste opere, delle quali, dicevo, oggi ancora a Castello, villa del Duca Cosimo, sono due quadri figurati l'uno con venere che nasce e quelle aure e venti che la fanno venire in terra con gli amori e così un'altra venere che le grazie la fioriscono dinotando la primavera, dinotando la primavera, tutto qua, fine della citazione vasariana, pochissimo, tra l'altro è una citazione che non ci aiuta affatto a capire il significato di queste opere, che cosa vogliono dire? non è difficile riconoscere i vari personaggi soprattutto nel caso della nascita di Venere sono solamente quattro sarà mica difficile li riconosciamo tutti questi personaggi poi ve li dico non preoccupatevi intanto fate un piccolo sforzo ma nel caso della primavera sono un po' di più però anche qui non è un problema riconoscere chi sia rappresentato in questi dipinti ma si tratta di capire che cosa vogliono dire questi quadri e allora da Vasari in poi si è aperta questa palestra di interpretazione proprio una specie di grande esercizio muscolare del muscolo e della testa degli studiosi degli esegeti degli coloro che studiano letteratura che studiano arte che studiano filosofia che studiano storia in generale per cercare di capire quale fosse lo scopo il motivo per il quale queste opere sono state dipinte togliamoci tutti quanti dalla testa l'idea romantica bella piacevole ma falsa che gli artisti dipingessero quello che veniva nel loro cuore oggi mi sveglio e dipingo la nascita di Venere non è così non è così le opere d'arte soprattutto opere d'arte di questo livello di questa importanza di questo di questo spicco risalto forza energia innovazione nascevano certamente con una intenzione molto chiara o almeno che allora appariva molto chiara e che a noi oggi forse sfugge allora io vorrei provare questa sera se avete voglia se no potete andare quando volete non mi offendo non preoccupatevi di cercare di provare a vedere se nella nascita di Venere nella cosiddetta nascita di Venere che in realtà non è una nascita di Venere non è già il titolo è sbagliato di provare a vedere se per caso non ci sia qualche cosa di più allora per fare questo piccolo esercizio ho bisogno della vostra partecipazione un po' come un prestigiatore ho bisogno della vostra partecipazione quindi dovete fare un piccolo sforzo e immedesimarvi in un'epoca in un momento in una storia in una fase che a tutti noi è molto cara a chi non ama la Firenze di Lorenzo il Magnifico l'età dell'oro dell'umanesimo italiano allora innanzitutto cerchiamo di capire chi sono i personaggi Lorenzo il Magnifico è più giovane di Botticelli Lorenzo il Magnifico nasce nel 1449 tenete presente questa data se volete fare cifra tonda fate 1450 per capire che quando viene fatta la primavera o la nascita di Venere questo signor Lorenzo il Magnifico che noi pensiamo che sia questo principe nobile alto del nostro rinascimento era sì e no un trentenne questo per dare l'idea delle età dei personaggi quindi Lorenzo il Magnifico era il capo di Firenze devo usare questo termine un po' vago perché Firenze era nominalmente una repubblica non era una signoria non c'era un principe un duca un re c'era una oligarchia e il primus inter pares così si amava dire era Lorenzo il Magnifico che però era un giovane uomo nemmeno trentenne in questa Firenze laurenziana Sandro Botticelli sale rapidamente gli scalini della fama e viene inserito in questo contesto di consiglieri intorno a Lorenzo il Magnifico che non erano consiglieri economici finanziari e legali tutto sommato Lorenzo non ne aveva bisogno veniva da una famiglia di banchieri di finanzieri aveva fiuto per gli affari quindi non sentiva di avere particolare bisogno di avere intorno a sé qualcuno che lo consigliasse su degli investimenti ma compra fin meccanica che va bene no non era questo il caso gli dicevano aveva intorno a sé un po' leggendo i dialoghi di Platone in particolare leggendo la Repubblica di Platone aveva scelto come propri consiglieri degli intellettuali poeti letterati umanisti pittori quindi Marsiglio Ficino Agnolo Poliziano più tardi Pico della Mirandola Sandro Botticelli sono i personaggi che fanno ala alla corte dei medici e tutti questi personaggi sono rappresentati in questa adorazione dei magi dipinta da Botticelli nel 1476 all'epoca Lorenzo il Magnifico aveva 27 anni e che raffigura in modo così collettivo la corte dei medici con il nonno di Lorenzo il Magnifico Cosimo il vecchio il padre che si chiamava Piero il Gottoso Lorenzo suo fratello Giuliano dei medici e i vari consiglieri tra i personaggi vedete all'estrema destra c'è questo giovane uomo vestito con un mantello giallognolo e Botticelli questo è il suo autoritratto eccolo qua con questo con questa aria un po' così da giovane un po' così un po' scostante Lorenzo il Magnifico era un uomo di rara bruttezza questo lo ricordano tutte le cronache e ce lo ricordano anche i non numerosissimi ritratti dell'epoca il bello di famiglia era suo fratello Giuliano di poco più giovane questo è un ritratto di Botticelli e Giuliano e Giuliano e Lorenzo questi due giovani brillanti membri della famiglia si avviano a detenere il potere su Firenze 26 aprile 1478 il 26 aprile 1478 Lorenzo e Giuliano De Medici insieme ai loro consiglieri più fidati vanno nella cattedrale di Firenze ad assistere ad una messa si siedono come è giusto nei primi posti ai banchi che stanno davanti all'altare siamo al momento della elevazione Giuliano e Lorenzo e gli altri si inginocchiano devotamente davanti al sacerdote nella penombra della cattedrale scintilla la luce di una lama di un coltello e i membri della famiglia Pazzi una famiglia che faceva parte della nobiltà fiorentina ma che aveva subito dei torti economici da parte dei medici si avventano sui due fratelli inginocchiati Giuliano è crivellato di ferite crolla a terra in un lago di sangue Lorenzo viene colpito ad una spalla ma i suoi amici e i suoi cortigiani gli fanno scudo lo trascinano nella vicina sagrestia delle messe e lo mettono al sicuro mentre il povero Giuliano muore dissanguato sotto i colpi dei pugnali dei congiurati ecco la congiura dei pazzi i pazzi non sono gli alienati sono pazzi con la P maiuscola sono una famiglia si chiamavano pazzi il cognome non è colpa mia sono quelli della cappella dei pazzi erano stati committenti di Brunelleschi di questo luogo di incanto di puro incanto che è la cappella dei pazzi la congiura dei pazzi non riesce fallisce perché il capo diciamo della casata cioè Lorenzo rimane in vita è solamente ferito in modo del tutto superficiale non solo ma la popolazione di Firenze su cui i pazzi confidavano per una insurrezione popolare resta fedele ai medici i pazzi scappano i loro complici cercano a loro volta la fuga verranno inseguiti dalla polizia medicea verranno uno dopo l'altro recuperati catturati portati a Firenze ed impiccati quindi la congiura dei pazzi fallisce ma dietro a questa congiura c'erano ben altre potenze c'era il papa dell'epoca Sisto IV che voleva impadronirsi di una zona della Toscana c'era il re di Napoli c'era il nostro amico Federico da Montefeltro chi non ama Federico da Montefeltro il committente di Piero della Francesca colui che si aggirava nelle sale del palazzo ducale di Urbino che ci ha dato l'edificio civile più bello del 400 italiano anche lui faceva parte della congiura anti-medicea tutti avevano delle brame volevano mangiarsi qualche boccone della Toscana per un buon anno Lorenzo il Magnifico che ripeto all'epoca aveva 29 anni poi parliamo di sindaci rottamatori a Firenze questo qui ci aveva pensato prima Lorenzo il Magnifico deve fronteggiare prima di tutto il fronte interno catturare i pazzi e i loro complici e impiccarli e poi fare diciamo guerra difensiva soprattutto nei confini meridionali della Toscana contro coloro che volevano conquistare la Toscana il tutto sullo sfondo di questo mondo idealizzato di questa repubblica basata sulle arti sulla cultura sulla moderazione questo è un affresco di Botticelli staccato che si trova oggi al Louvre ma che viene da una villa di proprietà della famiglia Tornabuoni i cugini di Lorenzo il Magnifico dove c'è un giovane uomo che viene educato alla moderazione alle arti alle arti liberali la primavera nasce esattamente nel periodo di maggior pericolo per lo stato di Firenze e per la casata dei medici a me devo dire che non dispiace affatto cercare ogni tanto di fare vedere come le opere d'arte non siano quell'oggetto quella specie di oggetto volante non identificato che veleggia sulle nostre teste che sta al di sopra del tempo della storia della contingenza delle vicende umane no niente di tutto questo la primavera e poi la nascita di Venere Palla del Centauro Marte e Venere nascono esattamente in una fase di conflitto di guerra di tensione di repressione di una congiura di accoltellamenti di impiccagioni in effigie e nella realtà perché prima di essere catturati i congiurati erano stati già condannati a morte e impiccati sotto forma di pittura all'esterno di Palazzo Vecchio Botticelli aveva dovuto dipingere il ritratto del Vescovo di Pisa impiccato prima ancora che venisse catturato perché questa era già prevista come la sua pena allora secondo me non è irragionevole cercare di leggere questi dipinti così sereni così luminosi così splendenti nella loro fiducia nell'uomo nella storia nella cultura in un rapporto armonico tra uomo e natura anche in una chiave politica questi sono dipinti che inneggiano alle virtù della pace della moderazione della unione venere al centro di questo dipinto sembra quasi iniziare un passo di danza le tre grazie alla sua destra e alla nostra sinistra si uniscono fra di loro si intrecciano fra di loro in un in un girotondo fatto proprio di sguardi di comprensione di somiglianza quasi fisica fra di loro e l'ultima figura all'estrema sinistra la figura del dio mercurio ermes dio amatissimo a firenze perché era il dio del commercio il dio della mercatura il dio della intelligenza creativa che cosa fa guardate bene con il suo caduceo sgombra il cielo dalle nuvole manda via il temporale manda via il brutto tempo fa tornare il sereno solo col sereno della politica e delle armi anche il commercio funziona bene quindi mercurio ermes ha tutto l'interesse che ci sia una situazione di pace questa è venere e questa è flora il principale organizzatore della congiura dei pazzi è Papa Sisto IV Sisto IV cari amici è un nostro amico è un nostro corregionale era nato tutti dicono è nato a Savona non è vero non è nato a Savona Sisto IV è nato in una frazione di celle ligure che si chiama Pecorile ora voi capite che un posto che si chiama Pecorile è una frazione molto rustica diciamo così Sisto IV della Rovere veniva proprio dal Pecorile aveva fatto la gavetta ecco mettiamola così ed era diventato Papa ma diventando Papa certo noi lo ricordiamo perché fonda la biblioteca apostolica Vaticana perché fa venire gli umanisti a Roma e così via ma avvia un clamoroso progetto di nepotismo riuscito perché suo nipote Giulio II della Rovere diventerà Papa dopo di lui quindi è stato bravissimo però su sta storia della Toscana il nostro Sisto IV ci inciampa un po' perché questa storia della congiura dei pazzi non ce lo rende particolarmente simpatico che cosa fa Lorenzo il Magnifico il quale essendo il signore di uno staterello piccolino con poche risorse sempre un po' un vaso di coccio tra i vasi di ferro dice io che cosa posso giocarmi per riappacificarmi col Papa mi gioco la carta della cultura e dell'arte guarda un po' ma sapete che questo Lorenzo il Magnifico aveva delle idee mica così stravaganti provate a proiettarle 600 anni dopo su delle dimensioni magari non nazionali ma internazionali dice io tutto sommato non ho armi non ho risorse naturali non ho grandi ricchezze si me la cava abbastanza bene con le banche lui ho però questa carta da giocare che è la carta dell'arte e allora cosa fa dice caro signor Papa sa che cosa c'è di bello io le mando a mie spese i miei migliori pittori per affrescare la sua cappella privata in Vaticano che guarda caso si chiama Cappella Sistina allora manda questa equip seleziona di persona lui Lorenzo il Magnifico dice tu sì tu sì tu sì tu sì tu no e manda Botticelli Perugino Ghirlandaio Luca Signorelli Cosimo Rosselli Leonardo no tu Leonardo no via ecco li manda a Roma manda questa equip nel 1481 sono passati due anni e mezzo dalla congiura dei pazzi e questo atto di diplomazia culturale chiude il periodo del contrasto tra il Papa e Lorenzo il Magnifico Botticelli questo è uno degli affreschi di Botticelli Mosè che difende le figlie di Getro questo pure di Botticelli la punizione di Core da Atan e Abiron questo è Luca Signorelli questo è Perugino questa è la consegna delle chiavi a San Pietro che in questi giorni proprio da un'ora e mezza è iniziata la sede vacante in Vaticano e questo è l'affresco della consegna delle chiavi a San Pietro l'investitura di Cristo al proprio vicario celeberrimo capolavoro di Perugino questo l'abbiamo già visto ebbene questi affreschi sono affreschi che hanno un fortissimo valore estetico artistico d'accordo ma hanno soprattutto un valore politico perché sono proprio il segno della riconciliazione tra Firenze e il Papa non solo ma anche il segno della superiorità artistica di Firenze rispetto a Roma è Firenze che manda i propri artisti a Roma e non viceversa Botticelli è insieme a Perugino il leader di questo gruppo quando torna a Firenze appena tornato a Firenze Botticelli riprende questo ciclo dei dipinti mitologici guardate questo per esempio il significato in questo caso è direi abbastanza esplicito la dea in questo caso è la dea Minerva la dea dell'intelligenza la dea della cultura ma anche la dea dell'operosità delle fabbriche dei tessuti importanti per Firenze che cosa fa Minerva che tra parentesi ha una bella alabarda anche non si sa mai comunque ha un'arma molto vistosa ammansisce un centauro questo centauro è un un essere in parte umano ma in parte ferino animalesco semibestiale armato di arco e di frecce ma basta la carezza della dea per trasformare questo centauro in un essere mansueto questa è una metafora di Firenze Firenze è la città della ragione la città della bellezza la città della cultura ed è la cultura che riesce a tranquillizzare ad ammansire a sedare le forze un po' bestiali della guerra ecco guardate questo è il particolare la nascita di Venere la cosiddetta nascita di Venere è un po' il clou di questo progetto perché vedete innanzitutto non è propriamente la nascita di Venere Venere nasce dalle acque questo lo sappiamo qualcuno forse sa anche come nasce Venere nasce in modo molto miracoloso Venere non ha un papà e una mamma perché nasce in seguito alla evirazione di Kronos il dio del tempo che viene evirato il sangue e altri liquidi di questa evirazione cadono nel mare dal mare plup salta fuori già adulta e bellissima e perfetta Venere quale mare il bacino orientale del Mediterraneo piuttosto verso la verso la Palestina dopodiché Venere nata così meravigliosamente perfetta da questo questo lo racconta Esiodo nella Teogonia così meravigliosamente nata dalla spuma del mare sale su una conchiglia e comincia a navigare e bordesando prima arriva all'isola di Cipro poi vede che a Cipro litigano un po' anicosia fanno il muro e così via allora dice faccio un altro pezzetto va ancora verso occidente e arriva all'isola di Citera un bacchement pour Citera famoso quadri di quadri di Vattot per esempio all'isola di Citera che ormai è già quasi in Grecia è davanti alle rive del Peloponneso quindi questo dipinto in realtà non raffigura la nascita di Venere ma l'approdo di Venere sull'isola di Citera infatti se voi guardate forse riuscite a vederlo in basso a sinistra beh comunque vedete bene che c'è una sponda una riva c'è quella fanciulla molto premurosa con una bella asciugamano rosa che aspetta Venere che sta arrivando sta approdando su questa grande pecten Jacobeus su questa cappa santa su questa grande conchiglia sta arrivando a riva attenzione Venere approda ad una sponda occidentale la dea della bellezza si sposta da oriente verso occidente e arriva appunto ad approdare su questa spiaggia spinta dai venti eccoli qua i venti i venti non sono venti sono due sono Zefiro e Borea due venti primaverili due venti benefici un vento maschio e un vento femmina strettamente uniti strettamente congiunti quasi allacciati fra di loro in una concordanza di intenti vedete che stanno proprio soffiando e questa è un invito alla alleanza è un invito alla concordia perché i venti favorevoli spingono Venere verso la riva questi due stessi personaggi cioè Zefiro e Clori o Borea compaiono anche nella primavera sono i due personaggi che si trovano all'estrema destra della primavera sono ancora loro eccoli qua sono proprio loro e al centro della nostra rappresentazione abbiamo Venere Venere la dea della bellezza la dea dell'amore la dea della seduzione ma il personaggio che nel 400 fiorentino viene individuato come una sorta di essere perfetto di personificazione della meraviglia della creazione divina il fatto che Venere sgorghi fuori dalle acque adulta e bellissima viene visto da Marsilio Ficino come una metafora classica della genesi della creazione di Dio così come Venere nasce completa adulta e perfetta dalle acque così Dio crea il mondo adulto e perfetto lungo i sei giorni o sette se preferite della creazione Venere per il 400 toscano non è un personaggio letterario mitologico lontano non è un noioso esercizio da somari che traducono il latino o il greco no Venere viene costantemente riproposta come immagine ideale di una umanità umanità fatta di accoglienza fatta di bellezza fatta di affetto di sentimento di senso dell'equilibrio e la cosa che mi fa piacere poter dire qui questa sera è che il modello per la Venere di Botticelli era una ragazza di Genova era Simonetta Cattaneo questa Simonetta Cattaneo ragazza appunto di una buona famiglia genovese che a 16 anni sposa un brillante gentiluomo fiorentino della famiglia Vespucci chissà mai che questa idea della navigazione per i Vespucci non sia venuta dal golfo di Genova e Simonetta Cattaneo in Vespucci era considerata a Firenze di gran lunga la più bella ragazza di Firenze e Botticelli le fa un ritratto intitolato alla francese per dare un tocco così la Saint Pareil senza confronto senza confronto la più bella di tutte amata platonicamente dal povero Giuliano De Medici quello che muore pugnalato durante la congiura dei pazzi e il fatto che Botticelli alcuni anni dopo la congiura dei pazzi riproponga il volto e i capelli biondi di questa bellezza genovese senza confronti Saint Pareil Simonetta Cattaneo Vespucci è un omaggio a Giuliano al martire in un certo senso della famiglia dei Medici ci sono poi mille cose che si potrebbero dire ma il tempo scorre molto veloce ve ne dico una sola Leon Battista Alberti aveva scritto nel suo trattato De Pictura che l'ideale della bellezza è dipingere una ragazza con dei lunghi capelli sciolti i cui capelli vadano di qua e di là scrive così sette volte quindi ci vogliono sette volute dei capelli e Botticelli scrupolosamente ha diciamo ha inanellato per sette volte i capelli di Simonetta Cattaneo Vespucci poi c'è questa ora questa semidivinità che accoglie Venere sulla spiaggia ed è interessante il fatto che il vestito di questa ora sia decorato con dei fiordalisi fleur delì fiordaliso che non è tanto diverso dal giglio fiorentino tanto che alcuni commentatori in particolare Cristina Cidini che ha partecipato a questo ciclo e con la quale mi sono dovuto quasi scusare per il fatto di entrare in punta di piedi in un argomento quello delle allegorie Botticelliane che è prettamente suo dicevo Cristina Cidini dice beh questo vestito questo abito ma anche l'albero di l'albero che sta al di sopra di questa figura di melagrane sono probabilmente una allusione a Fiorenza una personificazione di Firenze come dire questa Venere Dea della bellezza Dea di una bellezza che rasserena e rappacifica e mette armonia nel mondo viene dall'Oriente e approda verso l'Occidente ma a quali sponde? A quelle di Citera? No un po' più in qua arriva fino in riva all'Arno arriva e viene accolta da Fiorenza appunto quindi questa figura che si appresta ad accogliere ad assistere Venere sarebbe una personificazione di Firenze una parola sul nicchio su questo grande e bellissima tra l'altro conchiglia questo interno madreperlaceo così caldo che accoglie con un accordo meraviglioso devo dire di luce e di colore il leburneo nudo di Venere vorrei ricordare che il Pecten Jacobeus la grande conchiglia nella pittura del Quattrocento e nell'architettura del Quattrocento è una presenza molto considerevole quindi questo è un dettaglio come avete riconosciuto della palla di Piero della Francesca a Brera di forse otto anni anteriore rispetto alla nascita di Venere ed è la stessa conchigliona ribaltata altre rappresentazioni di Venere nel Quattrocento certo le abbiamo questa è Marte e Venere dipinta da Mantegna per il camerino di Isabella d'Este queste sono Marte e Venere con Marte incatenato e soggiogato da Venere di Francesco del Cossa nel palazzo di Schifanoia 1470 questi sono Marte e Venere a letto amanti che si stanno abbracciando dipinti da Ercole dei Roberti sempre nel palazzo di Schifanoia sempre 1470 a Ferrara con questo dettaglio bellissimo del fatto che i due amanti si sono spogliati molto rapidamente e hanno buttato armatura e veste ai piedi del letto e poi appunto ritorniamo a Botticelli che cosa fanno qui Marte e Venere Marte il dio della guerra il dio delle armi il dio della aggressività il pianeta rosso questo anche negli studi zodiacali e nell'astrologia quattrocentesca Marte è un è un influsso particolarmente aggressivo Marte dorme Marte cede crolla davanti a Venere che viceversa è ben sveglia e vigile e ci sono questi satiretti che scherzano e giocano con l'elmo con la lancia con le armi di Marte che dorme così pesantemente da non svegliarsi nemmeno se uno di questi satiretti gli soffia con una conchiglia nell'orecchio è evidente qui il messaggio la bellezza sovrasta la aggressività Firenze la città della bellezza può vincere qualunque città delle armi e d'altronde Firenze in quei pochi anni prima aveva scelto Giuditta che taglia la testa di Oloferne come proprio simbolo e poi sceglierà David che scaglia la pietra contro Golia sempre personaggi biblici che sembrano deboli e inermi rispetto a dei burbanzosi giganteschi colossali ma anche brutali e un po' grulli avversari ecco qui Marte addormentato poi adesso lascio un po' da parte questa serie di cose voglio dire che poi il successo della Venere di Botticelli è molto rapido perché molto rapidamente nel corso degli anni 80 e inizio degli anni 90 del 400 se ne fanno in parte da parte di Botticelli stesso in parte da altri artisti diverse versioni interpretazioni anche semplificate solamente i nude assai diceva Vasari poi però nel 1492 la morte precoce di Lorenzo il Magnifico a soli 43 anni i membri maschi della famiglia Medici sono stati tutti molto poco longevi mentre le signore Medici no come sanno molto bene i re di Francia dicevo Lorenzo il Magnifico muore nel 1492 gli subentra il figlio Piero che però era ancora molto giovane e anche un po' debole fragile e certamente non riesce a contrastare le tonanti prediche di Fra Gerolamo Savonarola ferrarese che dopo aver fatto lunghi e accurati corsi di dizione pochi sanno che Gerolamo Savonarola era già comparso sui pulpiti di Firenze alcuni anni prima ma era stato talmente preso in giro per il suo pesante accento emiliano che aveva dovuto rapidamente lasciare Firenze fa dei corsi di dizione impara una sonora pronuncia alla Benigni sale sul pulpito e tuona contro i costumi corrotti della Firenze e Medicia sollecita un ritorno penitenziale ad una purezza degli animi e del pensiero e sostanzialmente istituisce una sorta di teocrazia durante questo periodo molto drammatico che va tra il 1492 e il 1498 torniamo un po' indietro ritroviamo queste bionde bellezze della pittura di Botticelli queste sono le figlie di Getro affrescate da Botticelli sulle pareti della Cappella Sistina questa è palesemente la stessa modella vedete che è sempre lei è sempre questa stessa bellissima ragazza bionda purtroppo anche non non forte infatti la povera Simonetta Cattaneo Vespucci morirà poverina molto giovane di Tisi è una figura anche un po' romantica forse in anticipo di alcuni secoli rispetto a questa malattia che diventa proprio quella tipica delle eroine del romanticismo ottocentesco quando muore Simonetta Cattaneo Vespucci è un momento di grande tristezza per tutta Firenze e si cerca di consolare la famiglia dicendo è salita in cielo perché nel cielo ci sia una stella in più e la bellezza di Simonetta Vespucci ci viene tramandata non solo dai dipinti di Botticelli ma dalle rime di Poliziano la giostra di Poliziano che ricorda proprio una specie di nobile torneo che era stato organizzato in onore di questa fanciulla di questa ragazza che ci guarda con questo sguardo vagamente leggermente obliquo come si conviene al cosiddetto strabismo di Venere se ci fate caso gli occhi di Venere non sono perfettamente in asse ma c'è questo lieve lieve difetto che viene cantato dai poeti antichi e che rende più umana questa figura nel contesto dell'arte fiorentina del Quattrocento bisogna dire che questo dipinto di Botticelli ha avuto molto successo tanto da ribaltare il rapporto che c'era all'epoca tra pittori e scultori negli anni settanta ottanta del Quattrocento i collezionisti i committenti fiorentini tutto sommato potendo scegliere preferivano comprarsi una scultura c'erano degli scultori molto abili Mino da Fiesole Desiderio da Settignano Andrea del Verrocchio che si erano specializzati nella esecuzione di busti busti ritratto molto verosimili molto realistici molto efficaci mentre fino ad allora il ritratto pittorico era ancorato al modello un po' arcaico un po' numismatico del profilo e quindi era più vivace più immediato più attraente farsi fare una scultura un busto ritratto in marmo oppure anche in terracotta o in legno o addirittura in cera per eccesso quasi di realismo che non nella pittura ma guardate cosa succede che Botticelli con queste grandi allegorie profane cioè dipinti di soggetto mitologico non sacro insomma non cristiano supera quasi la scultura e quindi la dama con il mazzolino di Andrea del Verrocchio rispetto alla venere di Botticelli e beh risulta un po' un po' bloccata il miglior allievo di Verrocchio era Leonardo a ultimi pochi minuti per dire che le allegorie profane di Botticelli incrinano in modo definitivo il rapporto che ci poteva essere tra Leonardo e Botticelli Botticelli nasce nel 1445 Leonardo è più giovane nasce nel 1452 ci sono sette anni di differenza tra Botticelli e Leonardo ma insomma sette anni non sono poi tantissimi Botticelli è l'esempio più canonico più classico più manualistico del linearismo fiorentino tutti i dipinti di Botticelli sono basati sul disegno ma non solo i dipinti tutta l'attività di Botticelli ha come primato il disegno tanto che guardando le sue opere si vede molto bene torno un attimo indietro ecco guardate la mano di Venere si vede benissimo il contorno nero il tratto di contorno nero il disegno nero e poi dentro al contorno colorato un po' come una settimana enigmistica con i pallini Leonardo da Vinci che era rimasto scottatissimo ultra offeso dal fatto di non essere stato scelto in questa equip di artisti mandati alla cappella Sistina ma Lorenzo Magnifico aveva ragione santo cielo ma porco cane ma Leonardo è stato mai capace in vita sua di fare un affresco che sia stato uno mai mai allora uno che scrive se tu sarai solo tu sarai tutto tuo e se tu sarai con uno tu sarai mezzo tuo Leonardo vi sembra che fosse uno che lavorava volentieri in squadra che facesse sistema Lorenzo il Magnifico aveva ottime ragioni per non mandare Leonardo nella cappella Sistina però Leonardo si offende da matti tanto che comincia a rosicare e poi si fa scrivere dal padre notaio la autolettera di raccomandazione si dice commissione non si dice raccomandazione non si dice mazzetto no si dice un altro che dice manda questa lettera al duca di Milano un brubru però pieno di soldi e gli dice ho modi di ponti leggerissimi e forti e tatti a trasportare manda una lettera un curriculum in dieci punti in cui i primi nove punti dice io sono un perfetto ingegnere militare faccio macchine da guerra primi nove punti al decimo punto dice item in tempo di pace proprio se avanza tempo posso anche dipingere o scolpire ma proprio così ecco tra comunque le allegorie profane a parte gli scherzi che poi non sono proprio scherzi perché noi pensiamo sempre a questi personaggi qua Leonardo Leonardo da Vinci il genio Leonardo da Vinci aveva trent'anni anche lui non aveva centovent'anni come Matusalemme a trent'anni stava facendo carriera doveva emergere sgomitava per trovare spazio su uno scenario molto affollato come era quello della scena artistica fiorentina e quando vede che viene lasciato in panchina fuori dalla squadra dice io cosa faccio cosa faccio cerca dice vanno tutti a Roma io vado dall'altra parte vado verso nord vado a Milano erano esseri umani noi li trattiamo da geni come se fossero personaggi diversi da noi erano personaggi uguali a noi però dal punto di vista della pittura dello stile guardate la differenza tra questi due quadri che sono coevi perfettamente coevi Botticelli sviluppa e porta alla sua apoteosi e direi a un punto non superabile cioè al massimo sviluppo questo stile della pittura basata sul disegno di contorno Leonardo sta già iniziando in questo momento a sfumare i bordi e gli sfondi a intervenire proprio su quella chiusura cioè a quel fatto di tornire di definire di rifinire il bordo il contorno di ogni dettaglio che Leonardo tenderà a rifiutare ecco guardate il confronto tra queste due bionde bellezze la venere di Botticelli e la madonna annunciata di Leonardo l'annunciazione di Leonardo siamo perfettamente nello stesso momento nella stessa epoca e poi più avanti naturalmente qui passano degli anni qui gioco un po' insomma un po' esagerato è più giusto questo confronto qui quindi fermatevi qui però siccome mi pare che si stia preparando una conferenza un incontro con Giulio Giorello sul tema delle identità sessuali e del gender io credo che la dama con l'ermellino di Leonardo sia un esempio più unico che raro nel rinascimento italiano di un artista che ha saputo riconoscere ad una donna non solo le virtù della bellezza e della grazia ma anche la virtù dell'intelligenza e della personalità questo è proprio un salto di qualità Leonardo d'altra parte nel 1481 dipingeva così dipingeva in un modo talmente agli occhi dei suoi contemporanei confuso pasticciato non limpido non nitido che il confronto con Botticelli è piuttosto impressionante certo che Leonardo nei suoi scritti non cita nei suoi 6.000 pagine di scritti non cita praticamente mai nessun altro artista tranne uno una volta sola nella sua pittura cita un suo collega e cita proprio Botticelli per parlarne male e dice maestro nostro Botticella fece tristissimi paesi cioè non era capace di dipingere i paesaggi dal punto di vista di Leonardo è vero però è un punto di vista un po' di parte certamente questi paesaggi come si vede sullo sfondo di questa favolosa peraltro annunciazione di Castello di Botticelli questo pas de deux questo passo di danza fantastico questo gioco di relazioni così flessuose così ritmiche meravigliose da un certo punto di vista nella sua definizione nitida lucida limpida e sostanzialmente non reale non poteva piacere a Leonardo che invece vedeva negli sfondi il risalire della umidità della opacità dell'aria la nebbiolina figurate questo poi è venuto a Milano altro che nebbiolina andava sul lago maggiore c'è capito concludo ricordando che nel periodo di Savonarola Botticelli ha una profonda crisi spirituale suo fratello è uno dei più immediati collaboratori di Savonarola e quindi quando dopo la morte di Lorenzo il Magnifico si istituisce questa sostanziale teocrazia che qualcuno recentemente quest'oggi ho sentito qualcuno che ha confrontato il periodo di Savonarola con gli Ayatollah in Iran ecco non vorrei esagerare però certamente Savonarola istituisce una era il capo dello Stato era lui insomma e Botticelli si sente a sua volta turbato sente che è finito un'epoca che è finito un mondo partecipa ai falò ai roghi delle vanità brucia in piazza alcune delle sue assai ignude come diceva Vasari e in un certo senso attraversa questa crisi spirituale che ha la propria apoteosi in alcuni dipinti carichi di pathos di emozione di intensità insomma Botticelli si accorge che è finito un mondo che è finita un'epoca che in fondo è finito l'umanesimo ed è finito in un anno preciso potrei dire addirittura in un giorno preciso finisce nel 1492 nel 1492 in febbraio muore Lorenzo il Magnifico il 12 ottobre del 1492 che cosa è successo? sbagliato no non se ne era accorto nessuno che aveva scoperto l'America il 12 ottobre 1492 muore Piero della Francesca coincidenza della storia proprio quel giorno lì il 12 ottobre 1492 è il giorno in cui finisce l'umanesimo finisce perché appunto muore Piero della Francesca è un simbolo e finisce anche perché dall'altra parte del mondo Paco de Triana scende dalla dal pennone della Santa Maria e dice tierra tierra e si crea un nuovo percorso un nuovo giro del mondo dell'economia della politica del potere da cui l'Italia verrà rapidamente esclusa e i dipinti tardi di Botticelli sono molto malinconici perché Botticelli che aveva dipinto la splendore la grande fiducia la serenità l'utopia del quattrocento l'idea che si potesse davvero basare la gestione di uno stato sul tema della bellezza dell'armonia della fiducia reciproca della filosofia e che i consiglieri del capo dello stato fossero artisti filosofi letterati e pensatori capisce che quel mondo era un'utopia che ci sarà da ricostruire un mondo nuovo e diverso ma non potrà essere lui non potrà essere Botticelli a farlo Botticelli esce di scena e gli ultimi anni della sua vita sono anni in cui Botticelli non dipinge più non lascia più opere Botticelli morirà nel 1510 ma negli ultimi nove anni di vita dopo aver dipinto nel 1501 questa sua ultima opera e questa sua ultima estruggente immagine di un abbraccio universale Botticelli assiste alla crescita di una nuova generazione assiste alla fondazione di una arte nuova che sarà l'arte del 500 e forse assiste con un sorriso alla formazione di un ragazzo che viene a studiare a Firenze nel 1504 che cresce all'ombra di Michelangelo e di Leonardo e che nel 1509 sarà a Roma per dipingere la stanza della segnatura ma questo ve lo racconterà Antonio Paolucci la settimana prossima grazie a tutti voi grazie a tutti 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 grazie a tutti